Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è meccanata 4, ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui in uno di Football Manager 2018 per continuare a vedere la nostra mitica carriera con il grandissimo Marek Jankulowski. Come potete ben vedere adesso sto allenando, sta allenando l'Ajax. Prima dell'Ajax ho allenato per un anno e per un anno il Porto e lo Shakhtar Donetsk. Nella realtà diciamo sono andato un po' più avanti con l'Ajax, questo è il vecchio salvataggio, ma ho deciso di non farvi vedere che cosa sto facendo con l'Ajax perché l'avventura olandese ve la voglio far vedere a parte in un singolo video. Questo perché ragazzi? Perché con l'Ajax ho deciso di non rimanere un solo anno ma di provare a rispettare tutto il contratto che scadrà nel 2024. E per di più mi sono posto come obiettivo quello di vincere la quinta Champions dell'Ajax. Impresa molto molto difficile che però voglio provare a fare sia perché comunque andremo a vincere 19 anni dopo praticamente l'ultima Champions dell'Ajax. Ma per di più perché ragazzi diciamo che la carriera in ambito nazionale, la carriera di Marek, sta andando molto bene in Portogallo e in Ucraina. Veramente abbiamo fatto follie, diciamo se tu costruisci una squadra molto forte, quei campionati veramente li vinci ad occhi chiusi. Però in Europa stiamo avendo diverse difficoltà, soprattutto perché siamo anche un po' sfigati con i sorteggi. E proprio per questo diciamo che la carriera di Marek non sta proprio decollando perché appunto siamo ancora in campionati bene o male secondari. Quindi diciamo che anche parlando con diversi miei amici ho deciso di provare a stare fermo per due anni un po' come ho fatto col Torino e provare a fare una vera impresa. Questo non significa che sarà per forza compiuta questo miracolo, io ci proverò, vedremo cosa riusciremo a fare. Sto cercando di ragionare molto soprattutto sul mercato, infatti devo dire che l'Ajax ha un appeal molto più basso rispetto allo Shakhtar Donetsk e al Porto. Anche perché comunque sono campionati nel ranking europeo comunque più in avanti rispetto a quello olandese. E quindi sto avendo un po' di difficoltà col mercato, però sto sfruttando queste difficoltà cercando di farmi un botto di soldi. Tant'è che adesso ho fatto più di 60 milioni, 20 milioni solamente con prestiti onerosi. E quindi cercando di accumulare soldi, aumentare l'appeal della squadra, poi il secondo anno costruirmi un'armata e provare a vincere la Champions League. Ovviamente non è detto che questo obiettivo sarà raggiunto, però io cercherò di fare il massimo. Anche perché ovviamente io vorrei anche iniziare ad allenare qualche squadra un po' più forte, un po' più importante. Il mio sogno era allenare Cristiano Ronaldo o Messi, ma mi sa che si ritirano prima che io arrivi a quelle squadre. Però insomma, io vorrei arrivare comunque soprattutto in campionati un po' più importanti. Perché ammetto ragazzi, soprattutto il campionato ucraino dopo un po' mi ha scocciato. Perché veramente, dopo lo andremo a vedere, le abbiamo vinte quasi tutte. Cioè, è troppo il divario fra Big Big del campionato ovviamente e squadre di media alta classifica. E quindi vorrei, il mio sogno è arrivare in Premier, perché è un campionato molto avvincente e vabbè ci arriveremo, spero anche con l'United of Manchester. Ma mi farebbe piacere anche allenare Spagna. Diciamo che sto allenando un sacco di campionati e questo mi fa piacere, perché di per sé sto allenando in campionati dove non ci sono mai stato, comunque sono stato molto poco. E quindi questa carriera mi sta piacendo molto anche per questo. Però prima o poi vorrei quagliare e arrivare in una squadra veramente fortissima dove posso comprare fenomeni a go-go. Anche se comunque già belle soddisfazioni me le sono tolte. Prima di iniziare, voglio dirvi ragazzi di mettere mi piace sulla pagina Facebook. Questo perché? Perché ogni tanto vi faccio qualche quesito inerente ai video che posterò poi su YouTube. Infatti ad esempio l'altro giorno ho chiesto appunto su Facebook se oggi volete vedere il continuo della carriera con Marek Iankuloski oppure l'United of Manchester. Ha vinto a mani basse la carriera con Marek, proprio per questo adesso stiamo vedendo il nostro buon Marek Iankuloski all'opera. Quindi mi raccomando, mi piace a bomba su Facebook e andiamo a vedere la carriera con il Porto. Che come potete vedere ragazzi sta abbastanza una passeggiata. Abbiamo addirittura battuto il Barcellone in amichevole. In questo caso ragazzi ho provato il 4-2-3-1 che è la tattica che stavo utilizzando all'ultimo col Torino. E devo dire la verità ragazzi ha funzionato veramente alla grande, soprattutto nelle prime amichevoli. Veramente tanta tanta roba ragazzi. Il Porto mi ha dato anche molto molto soddisfazioni. Mi sono divertito tanto da allenarlo. Anche se diciamo che già verso gennaio, febbraio un po' mi stavo iniziando a scocciare. Perché in Champions abbiamo fatto fatica. Ma in campionato come potete ben vedere li abbiamo distrutte tutte. Anche il Benfica abbiamo vinto in scioltezza proprio la Supercoppa di Portogallo. E quindi veramente tanta tanta roba. Il Brondi che poi ha anche chiappato con l'Ajax. In Champions League anche abbiamo sì perso col Chelsea. Ma abbiamo comunque battuto il Borussia Dortmund. Siamo arrivati se non sbaglio secondi ai gironi. E quindi comunque abbiamo fatto un ottimo percorso. In campionato non ve lo commento proprio perché ragazzi le abbiamo stravinte. E abbiamo creato anche una grandissima squadra. Anche perché il 31 di agosto, diciamo che ve lo racconto anche se poi andremo a vedere meglio il mercato. E' stata la giornata mia più frenetica proprio della storia di Football Manager. Questo perché? Perché avevo tre attaccanti. Due veramente forti. E comunque anche molto giovani. Il 31 di agosto per entrambi gli attaccanti mi è arrivata un'offerta complessivamente. Ovviamente di 90 milioni. E voi che fate? Di per sé erano comunque due attaccanti di riserva. Quindi ho preso la palla al balzo. Il 31 di agosto ho venduto a 90 milioni, ripeto, complessivamente due attaccanti. E ho dovuto cercare, ripeto, le ultime ore due attaccanti. Uno ovviamente è stato Pavoloso. E un altro Walter Rodriguez che poi è stato anche il titolare della nostra squadra. Insieme a Soares che comunque è un ottimo attaccante. Comunque ragazzi, in Coppa Nazionale anche andiamo avanti senza troppi problemi. Riusciamo a vincere abbastanza tutte. E qui sono due Coppe Nazionali. E un campionato non ve lo commento nemmeno. In Champions League abbiamo molta sfortuna. Perché abbiamo beccato subito il PSG che ovviamente ci asfalta. Tant'è che fuori casa ne abbiamo prese ben tre. In casa abbiamo fatto pure una buona partita. Pareggiando 0-0. Ma poi veramente fuori casa ci hanno asfaltato. E quindi siamo usciti subito dalla Champions. Diciamo che la differenza fra le big big e le squadre come il Porto è veramente notevole. E quindi anche con l'Ajax sto cercando un modulo per provare a giocarmela anche con queste squadre così forti. Comunque mi sono perso un po'. E diciamo che una delle Coppe Nazionali è fatta con i gironi. E c'è la finale già a gennaio. Semifinale l'abbiamo giocata con il Benfica. Vinta 3-1. Potete ben vedere già chi ho comprato. E poi la finale con una squadra di Serie B. L'abbiamo vinta veramente in scioltezza. 2-1 gol di Pavoloso. Che era pure ritornato dall'infortunio. Perché appena l'ho comprato si è scassato per 5 mesi. È ritornato, è assegnato in Supercoppa. E mi ha anche ringraziato pubblicamente per la fiducia che ho in lui. Per quanto sì, io ironicamente Pavoletti me lo sto portando ovunque io stia andando. Però ragazzi è veramente un attaccante molto molto forte. Fa strano dirlo, però insomma è un attaccante veramente molto molto notevole. Vi faccio uno spoiler. Ovviamente l'ho portato anche a Ajax. Quindi in Olanda. Perché è veramente troppo troppo forte. E ovviamente come riserva, non come titolare. Però insomma è un valido giocatore che si prende a due spicci. Ora lo pago addirittura 140.000 euro. Poi vabbè, l'altra Coppa Nazionale. Abbiamo preso l'Estoril. Praticamente l'abbiamo asfaltata con un complessivo di 6 a 2. E poi in finale contro il Benfica 3 a 1. Benfica, devo dire la verità, ci ha sempre dato abbastanza filo da torcere. Tant'è che in campionato ad esempio abbiamo pareggiato. Ha una bella squadretta. C'è ad esempio Akan, Cajanoglu, Cappaco Alcacer dal Barcellona. Insomma è una buona squadra. Addirittura dopo l'avventura Porto mi hanno offerto la panchina. Che io però ho rifiutato perché mi scocciavo di fare un altro anno in Portogallo. Mi sono levato lo sfizio perché come già vi ho detto l'anno scorso io in Portogallo ho allenato poco e niente. Non potevo rifiutare l'avventura col Porto. Squadra comunque molto molto forte. Squadra che ho cercato io prima di andare a Torino ma all'epoca mi avevano proprio snobbato. Comunque come avete potuto ben capire in ambito nazionale abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Abbiamo vinto la Supercoppa nazionale. Siamo arrivati praticamente subito e l'abbiamo vinta. Abbiamo vinto le due coppe nazionali abbastanza facilmente battendo entrambe le volte Benfica. Prima in semifinale e poi l'altra in finale. Abbiamo vinto anche ovviamente il campionato con anche buono stacco. Diciamo che in Portogallo c'è questa cosa che il Benfica, lo Sporting Lisbono e il Porto sono fortissime. E devi provare a vincerle tutte perché se ne perdi una o lo Sporting Lisbono o il Benfica ti riacchiappa subito. Ma proprio subito perché le vincono praticamente tutte così come le vinci tu. E invece le altre squadre sono di un livello veramente molto molto basso. Tant'è che io a 10 giornate dalla fine del campionato già ero matematicamente qualificato in Champions League. Con 20 punti di distacco dalla quarta. Quindi diciamo che il Barione è molto alto e proprio per questo questo campionato non è che mi ha entusiasmato. Anche se poi con l'Ucraina è ancora peggio devo dire la verità. Appunto come vi dicevo dallo Sporting Lisbono avevamo solamente 4 punti di distacco. Poi il Benfica un po' si è perso e ce ne sono 10 punti di distacco. Ma dalla quarta abbiamo ben 33 punti di distacco. Veramente un'enormità. Ma anche dalla quinta. Insomma ci sono praticamente due campionati. Fra Porto, Lisbono e Benfica e poi tutte le altre. Può essere divertente perché tu te la giochi con queste tre. Però poi alla fine un po' ti scocci perché insomma non c'è il brivido che ci potrebbe essere. Che ne so in Premier. Campionato che come già detto 60 volte è punto ad allenare. Ovviamente non è una critica a questi campionati. So che molti ragazzi si divertono ad allenare questi campionati dell'Est o comunque in Portogallo, in Olanda come adesso io sto facendo con l'Ajax. Però diciamo arrivati poi nel 2022 è più facile diciamo comprare giocatori molto forti perché anche se sono tipo a fine carriera. Quindi che ne so ho preso Quadrado che era ancora molto forte. A zero ho preso Di Maria a 10 milioni che nonostante non era il grande Di Maria che conosciamo era ugualmente molto molto forte. E grazie a loro comunque in ambito nazionale facilmente sono riuscito a vincere il campionato. Diciamo facilmente sono 4 punti di stacco dello Sporting Lisbona ma praticamente per tutto il tempo sono stato primo. Quindi diciamo non ho avuto mai troppa paura dello Sporting. Anche perché poi alla fine dopo le partite con Benfica e Sporting praticamente li andai a vincere quasi tutte. Dopo il Porto quindi c'è stata l'avventura dello Shakhtar Donetsk che sono andati in Ucraina. Ma prima di andare in Ucraina ho accettato la panchina della Grecia che poi vabbè ho allenato insieme Grecia e Shakhtar Donetsk. Diciamo che anche qui mi sono molto divertito ad allenarli perché praticamente abbiamo fatto dei veri e propri miracoli. Perché siamo arrivati secondi nel girone. Siamo stati sotto solamente al Portogallo che praticamente il Portogallo aveva vinto tutte le partite. Diciamo che nonostante dei veri e propri miracoli io sono arrivato alla partita con l'Andorra. Abbiamo battuto l'Andorra, la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l'Andorra, di nuovo la Repubblica Ceca. Abbiamo addirittura pareggiato con la Croazia. Ragazzi la Grecia a parte qualche nome sono veramente scarsi alcuni giocatori. Ce ne giochiamo con Mitroglu in attacco che adesso ce l'ho nell'Ajax del terzo attaccante. Quindi non è per niente a livello della Croazia. Infatti quando ho pareggiato ho esultato come se avessi vinto il Mondiale. Però diciamo che cosa è successo. Vabbè faccio un salto in avanti. Voglio farvi vedere prima la carriera con la Grecia e poi quella con lo Shakhtar Donetsk. Diciamo che sono arrivato secondo. E praticamente poi sono stato buttato fuori dai Mondiali. Non ho fatto nemmeno la partita delle migliori seconde. Anche se avevo fatto tipo 17 punti. Questo non l'ho capito. Comunque l'obiettivo per la Grecia era quello di fare una buona figura alle qualificazioni. Arrivare comunque secondi dietro a un Portogallo che le aveva vinte tutte a 17 punti. Credo che era una bellissima figura. Non buona, buonissima. Però nonostante ciò la Grecia mi ha detto che era delusa dal percorso fatto. E siamo sinceri è proprio una stronzata del gioco secondo me. Ma proprio per questo io mi sono dimesso dopo 30 secondi. Cioè mi hanno detto siamo delusi da quello che ha fatto. Speriamo che in futuro faccia meglio. Ok demettiti subito. Perché sinceramente non mi faccio trattare a pesci in faccia. Da una nazionale che ripeto mi sono divertito ad allenare. Però dai, non è certo forte come il Portogallo, come la Croazia eccetera. Quindi arrivi e c'è grazie e niente. Poi se mi arriverà una chiamata di una nazionale veramente seria forse ci andrò. Ma se no, niente. Avevo lo sfizio di giocare i mondiali. Tant'è che io pensavo che arrivando seconda potevo fare la partita come l'ha fatta l'Italia praticamente. Però non me l'hanno fatta fare. Quindi, boh, non riesco a capire molto bene. Comunque, insieme appunto, come vi dicevo, alla Grecia sono andato in Ucraina. In Ucraina diciamo che l'avventura è stata veramente folle. Perché mi hanno assunto il 17, 7 alle ore 11.45. Me lo ricordo ancora perché l'ho scritto anche a determinati miei amici. E alle 11.45 arrivo in Ucraina. E conosco la squadra, faccio la conferenza e tutto. E dopo manco tre ore mi trovo a giocare la Supercoppa senza aver fatto preparazioni, senza niente. Praticamente ho solamente dovuto selezionare secondo me i migliori giocatori che avevo in squadra e li ho dovuti buttare in campo con il mio 4-2-3-1. E già qui potete capire il livello del campionato ucraino perché senza preparazione, senza conoscenza tattica, senza conoscere i giocatori, senza nulla, abbiamo vinto 3-0 in scioltezza contro lo Zorgia. La squadra che poi abbiamo incontrato la partita dopo, diciamo in campionato, abbiamo di nuovo battuto 2-0. Ho fatto due amichevoli giusto per, insomma, ho detto vabbè almeno un minimo. So che comunque la squadra già ne aveva fatte alcune precedentemente, però raga, tre partite sono veramente pochissime per una preparazione e soprattutto poi non conoscevano la mia tattica. Però questo vi fa capire il livello di questo campionato. Infatti ho vinto, diciamo, l'obiettivo squadra in grandissima forma, non mi ricordo manco come si chiama, perché abbiamo vinto più di 30 partite di seguito senza appunto... No, non vinto, scusate, abbiamo sempre fatto risultati utili. E a parte questo 0-0 che comunque è un risultato utile, praticamente non l'abbiamo mai perso. La prima sconfitta è arrivata a dicembre contro il Tottenham in Champions League, sconfitta che praticamente non era nulla, non ha avuto nessuna importanza, perché eravamo primi nel girone con 15 punti appunto. E quindi niente ragazzi, c'è poco da dire di questo campionato, perché come potete ben vedere li abbiamo asfaltati, poi c'è stata, vabbè, la pausa invernale che c'è sempre, soprattutto nei campionati dell'Esto, comunque dove fa molto molto freddo. E quindi poi siamo stati abbastanza sfigati, perché dopo questo stop c'è stata subito la partita con l'Atletico Madrid in Champions, che ci ha veramente asfaltato, anche perché poi l'Atletico Madrid ha vinto la Champions. Quindi praticamente da primi in girone abbiamo beccato la squadra che poi andava a vincere il trofeo più importante europeo. La particolarità del campionato ucraino è che ci sono solamente 12 squadre che si sfidano solamente due volte durante l'anno, poi che cosa succede? Che le prime sei si sfidano a vicenda insomma altre due volte, le ultime sei si sfidano a loro volta altre due volte. E vabbè, comunque, ripeto, campionato abbastanza easy, abbiamo vinto con 80 punti il campionato, a più 20 dalla Dinamo Kiev, quindi veramente non c'è stata la partita. Dinamo Kiev che ovviamente è arrivato al secondo posto, abbiamo vinto anche poi la Coppa Nazionale abbastanza facilmente, 2-0 contro sempre una squadra di prima categoria, ma che comunque non era proprio fortissima. Diciamo che la squadra più ostica è stata la Dinamo Kiev, ma ammetto anche che le ultime partite le ho lasciate al vice, perché mi ero abbastanza scocciato. E ovviamente la finale l'ho giocata io e l'abbiamo vinta senza troppi problemi. Quindi vi ripeto, sono stati due anni comunque molto interessanti, perché comunque ho allenato due campionati che ho allenato comunque pochissimo, comunque quasi mai, però sono due campionati che non rifarei adesso con il buon Marek, perché appunto allenando una big non c'è poi tantissimo stimolo a continuare, a meno che non punti come voglio fare con l'Ajax, a vincere poi anche qualcosa in ambito europeo, sempre che ci riusciamo. Per quanto riguarda il mercato, col Porto il mio primo acquisto è stato David Luiz, giocatore che mi piace veramente tanto, adesso vabbè è invecchiato, non si legge più in piedi, ma sia col Toro sia col Porto è veramente un difensore molto importante, soprattutto è molto molto forte come difensore che imposta. Diciamo che col Porto ho provato anche la difesa a tre, e proprio per questo ho preso Elustondo, che può giocare sia come terzino destro, e mi serviva appunto una riserva a destra, e sia anche può giocare come difensore centrale, lo può fare anche abbastanza bene. E la difesa a tre che all'inizio mi ha dato abbastanza soddisfazione, poi un po' meno, proprio per questo se ho ritornato con i quattro dietro, giocando col 4-2-3-1. Come già vi ho detto, ho preso Quadrato a parametro zero, stava messo molto meglio fisicamente, stava comunque un giocatore molto molto importante, ho preso Murillo in prestito, anche se poi l'ho mandato poco dopo via, ma comunque Murillo è un giocatore comunque molto molto interessante, questo Ludogivico Gelmi l'ho preso più che altro in prestito, per la primavera ci serviva un portiere, questo Jens Tonstra, dell'Atletico Madrid adesso si andrà a svincolare, è stato veramente un giocatore molto molto importante, come trequartista, tant'è che addirittura si è ritagliato un piccolo posto da titolare. Ovviamente ragazzi, il Pavoloso, non potevo non prenderlo, e adesso vi ripeto, l'ho preso anche con l'Ajax, anche perché il Porto non gli ha rinnovato il contratto, veramente sono dei folli, non capisco perché, perché per me è un signore attaccante, e poi, come già vi ho detto, il 31 di agosto, oltre a Pavoletti, ho preso questo Walter Gonzalez, attaccante veramente molto molto interessante, che ha fatto veramente molto bene col Porto, ha addirittura preso il posto di Soares. Poi, a gennaio, mi sono voluto levare un paio di sfizi, ho preso Tolisso, assolutamente 15 milioni, dalla Bayer Monaco, non credo che servano descrizioni per lui, e ovviamente anche Angel Di Maria, che fisicamente stava messo molto meglio, ma comunque, tecnicamente ragazzi, mentalmente c'è poco da dire, è veramente un fenomeno, e sì, vabbè, prende una barca di soldi, ma mi volevo levare uno sfizio. Poi vabbè, ho preso Diogo Barbosa, che comunque, come terzino sinistro, è stato abbastanza valido, tant'è che poi l'ho preso anche nello Shakhtar Donets, e poi, questo Cerquera, che è un difensore centrale, c'aveva altri soldi, volevo un difensore centrale un po' più forte, anche perché David Luiz non si reggeva più in piedi, e quindi ho preso lui, che comunque ha fatto molto molto bene. Come vi dicevo, 134 milioni guadagnati, vendendo appunto, Rui Pedro e Felipe Vizeuz, non ho fatto proprio 90 milioni, ma più di 80 sicuramente, sono due comunque attaccanti molto molto forti, ma ragazzi, un'offerta di 60 milioni per Rui Pedro, non si poteva rifiutare, anche perché poi l'abbiamo sostituito con Walter Gonzalez, che secondo me, attualmente, è molto più forte. Poi anche Felipe, non è scarso, ma sinceramente, 26 milioni, prima ne valeva tipo 14, non si potevano rifiutare, non so dove lo Spartak Mosca abbia preso questi soldi, però buon per lui. Poi ho venduto al mio buon Torino, Willy Bolì, Torino, che veramente ha fatto una brutta fine, è stato allenato dal grandissimo Mazzarri, poi da Rafa Benitez, adesso sta a Ballardini, nella carriera con l'Ajax, dove sono andato avanti, infatti il Torino ha veramente fatto schifo con Benitez, guardate qua, veramente una delusione cosciente, tant'è che a un certo punto mi hanno pure ricercato, però ragazzi, stavo già all'Ajax, non volevo andarmene, soprattutto per una squadra che sta messa proprio a pezzi, e soprattutto perché mi fa proprio male all'anima, al cuore, a tutto quello che volete voi, vedere che è stato ceduto delle Alli a 104 milioni, cioè noi abbiamo pagato 200, tu lo vendi a 70, più 30 di bonus, veramente non si può accettare una cosa del genere, poi abbiamo venduto Edu Vargas a 10, insomma abbiamo fatto un bel po' di gestioni, tanto che ci siamo fatti una bella fracca di soldi. Per quanto invece riguarda l'Ucraina, vabbè non mi faccio vedere le tattiche ragazzi, perché praticamente il 4-2-3-1, che poi vi ho fatto vedere anche al Torino, entrambe le squadre comunque, ci avevano bei giocatori, e comunque squadre molto interessanti, in Ucraina c'è diciamo il limite che puoi mettere in rosa titolare, massimo 7 stranieri, diciamo che comunque è un limite nemmeno troppo pesante, perché poi alla fine già lo Shakhtar aveva diversi ucraini molto molto interessanti, che se volete adesso andiamo a vedere, e comunque il primo acquisto è stato Sergio Romero, portiere che mi serviva, non volevo spendere troppo per un portiere, però ci serviva uno veramente forte, perché il titolare era Capino, che per quanto non sia scarso, ma sinceramente volevo qualcuno di forte, poi Diogo Barbosa, come vi dicevo, si serviva un titolare a sinistra, comunque pronto e forte, poi abbiamo preso un po' di prestiti, come questo Colleen, dal Benfica, comunque è un giocatore abbastanza interessante, che era una riserva a destra, poi ho preso Salvio, dal Napoli, che poi ho mandato via, perché ho trovato un giocatore molto più forte, Ho Nazzi, che è un giocatore che conosciamo abbastanza bene, che ha giocato nella Lazio, che ci è servito come riserva, è stato abbastanza utile, e poi vabbè c'è stato Marlon, dal Internazional, che è un difensore centrale, che però se non sbaglio ho mandato via, dopo poco, perché poi ho trovato Mambana, in prestito, un giocatore che comunque non potevo non prendere, e infine poi vabbè ho preso Gerson, perché mi serviva un Jolly, che potesse giocare sia a centro campo, sia offensivamente, quindi come trequartista, che come ala, non è che è stato un giocatore devastante, però insomma, sempre in prestito l'abbiamo preso, poi ho comprato Ramsey dal Manchester, giocatore hook, molto molto interessante, molto molto utile, ha fatto comunque due gol in campionato, media voto comunque importante, si infortunia ogni tanto, però insomma, ci serviva una stella a centro campo, e poi diciamo che il colpo dell'ultima giornata, insieme a Ramsey, è stato Lamela, giocatore che vabbè, non ha bisogno di spiegazioni, di presentazioni, è stato comunque molto importante, è stato comunque molto molto forte, non ha giocato poi tantissimo, anche perché ha avuto un paio di problemi fisici, però insomma, anche lui è stato un buon acquisto, poi all'ultimo, a gennaio, ho comprato solo Jordi Cavalera, Calavera, a destra, perché volevo rafforzare un po', i terzini a destra, e a gennaio ho fatto poco mercato, perché devo essere sincero, già un po' mi ero scocciato, dello Shakhtar, perché come vi ho fatto vedere, le prime 30 partite le abbiamo vinte tutte, quindi non c'è stato proprio, minimo di sfida, in Champions poi già avevo beccato l'Atletico Madrid, quindi già praticamente, stavo piangendo, per la possibile sconfitta, quindi niente di eclatante, vabbè, comunque Alan Patrick abbiamo ceduto, abbiamo ceduto un bel po' di giocatori, ci abbiamo fatto una bella fracca di soldi, la tattica praticamente era questa, vabbè Gerson l'ho messo titolare l'ultima partita, anche perché c'erano diversi infortunati, comunque ci sono giocatori molto interessanti, soprattutto in difesa c'è questo Ordez, che è molto valido, poi c'è Rakitischi pure, che è molto valido come difensore centrale, ve li faccio vedere se tipo volete fare una carriera in Ucraina, c'è stato Stefan Enko, altro giocatore molto molto importante per questa squadra, così come anche Malishev, giocatore molto 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 importante, poi vabbè c'è Kovalenko, che è una bestia, ci sono giocatori molto interessanti ucraini, però oltre a quelli dello Shakhtar Donets, ci sono ovviamente fenomeni, tipo Jarmo Lenko, che non vogliono venire, oppure delle pippe assurde, che non vale la pena prendere, quindi almeno nel 2022, quindi diciamo che tendenzialmente alla fine non ho avuto poi chissà quali stimoli, per continuare questa carriera, speriamo che vada meglio con l'Ajax, devo dire la verità, sto facendo un mercato molto più certosino, molto più seriamente, se così possiamo dire, sto molto più attento anche al centesimo, sto cercando di risparmiare, come già vi dicevo, il più possibile per provare il Miracolo Champions, vediamo un po', vi aggiornerò ovviamente nel prossimo episodio, detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un bel like, commentate, condividete a bomba, mettete un mi piace anche alla pagina Facebook, come già vi ho detto, e infine, vabbè ragazzi, ovviamente mercoledì riprenderemo con la carriera, con l'United on Manchester, vi ringrazio sempre per tutti i commenti, per tutti i consigli che mi state dando, mi avete dato una grossa mano per appunto il Manchester, sto già vedendo un po' i giocatori che ci servono, ho rinnovato un contratto per il momento, ho rinnovato alcuni prestiti, insomma sto lavorando anche lì, oltre che ovviamente per la carriera offscreen, e oltre ovviamente per la tesi. Detto questo ragazzi, di nuovo grazie per tutto, e come sempre un saluto da Mike94, ovviamente anche da Football Manager Italia. Ciao ragazzi!